Da dove vengono? Cioè da dove vengono i 500 miliardi che saranno utilizzati per acquistare titoli? Perché qualcuno sostiene che vengano dalla raccolta fiscale, ci può chiarire se vengono da lì o da dove vengono? Dove li trova la BCE questi miliardi? Tutto qui. Prego. Aspetta, questa è una decisione di politica monetaria che vuol dire trattasi di emissione di moneta, che è quello che fa una banca centrale. Non sono consapevole di qualcuno che argomenti diversamente, su questo mi scusa, ma come qualsiasi banca centrale, la banca centrale europea acquista titoli e crea moneta, crea proprie passività per sostenere l'economia. Tutto qua. Grazie. Come qualsiasi banca centrale, la banca centrale europea acquista titoli e crea moneta, crea proprie passività per sostenere l'economia. Tutto qua. Ahi, Capito! 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 Grazie a tutti.